Facciamo l'esperimento montato con la beuta che produce il vapore facendo evaporizzare l'acqua qua dentro, poi questo vapore passa attraverso il tubo di gomma dentro al tubo d'acciaio o in questo caso d'ottone, questi sono i tre tubi, i tubi sono bloccati qui a questa estremità da questa vite e quindi si allungano sulla parte destra dove c'è questo tacco che spinge contro il comparatore. All'estremità a sinistra è posizionato un termometro per misurare la temperatura, qui vediamo il comparatore, un giro del lago corrisponde a un millimetro di allungamento del tubo, il tubo si allunga qui dalla parte destra e con questo tacco spinge il comparatore, qui vediamo di nuovo il comparatore che viene spinto dal tacco all'estremità del tubo cavo di metallo. In questa immagine il comparatore è stato spinto con un dito e si vede che l'acqua ha fatto quasi un giro intero e è arrivato fino a 75 centesimi di millimetro, infatti ogni tacchetta corrisponde a un centesimo di millimetro essendo il giro, cioè il millimetro di allungamento diviso in 100 parti. Qui vediamo il termometro all'estremità del tubo che segna la temperatura raggiunta dal tubo di metallo. Questa è la temperatura iniziale, bisognerebbe partire da 0 gradi centigradi, ma comunque anche partendo da una temperatura diversa, leggermente diversa, si può dimostrare che i risultati sperimentali in pratica cambiano di pochissimo, cioè l'errore che si commette è trascurabile, lo vediamo meglio dopo in dettaglio. Ora in questo video accelerato vediamo cosa succede quando viene collegato il tubo di gomma al tubo in questo caso di ottone e quindi si inizia a far passare il vapore che proviene dalla beuta dentro al tubo di ottone, il tubo di ottone immediatamente si riscalda e l'ago del comparatore inizia a ruotare. Vediamo, questo è un filmato accelerato dove si vede che appunto il tubo si sta allungando e nel caso dell'ottone raggiungerà circa i 72 centesimi di millimetro. Dopodiché si ferma l'allungamento perché la temperatura ha raggiunto il valore massimo, cioè ha raggiunto quasi i 100 gradi centigradi. Adesso invece il tubo di acciaio il tubo di acciaio si ferma a 42 centesimi di millimetro, ecco lo rivediamo qui, il tubo di acciaio si ferma a 42 centesimi di millimetro, quindi 0,42 millimetri, mentre il tubo di alluminio arriva fino a 0,78 millimetri, vuol dire che l'alluminio si dilata di più dell'acciaio, quindi ha un coefficiente lambda di dilatazione termica lineare maggiore.